Il vostro governo è favorevole a un fattore famiglia, a un'impostazione della politica economica basata su un fattore famiglia e una politica fiscale basata su questo, possiamo dirlo? Non è soltanto la priorità del Ministro Riccardi, ma potrebbe essere anche una sua... È uno degli elementi che devono guidare una politica del governo anche attraverso lo strumento fiscale e vanno tenuti presenti gli insieme degli interventi, per esempio c'è in prospettiva un dibattito sul fattore famiglia e nell'immediato, non bisogna neanche dimenticare, a proposito di politiche per la famiglia, la decisione che abbiamo preso qualche giorno fa di destinare i fondi europei sbloccati dal Ministro Barca per le quattro regioni del Sud, quelli sono 700 milioni di Euro che sono stati destinati alle due priorità indicate dal piano famiglia, la creazione di asili nido e l'assistenza domiciliare agli anziani non autosufficienti, quindi abbiamo una vocazione di grande priorità per la famiglia, cerchiamo di realizzarla gradualmente senza... insomma siamo sensibili all'etica delle intenzioni e facciamo i conti con l'etica della responsabilità, per così dire. Sì no, l'importante della famiglia si è messa al centro e la politica di un segnale strutturale, che non sembrano tanti segnali tipo un altro, forse un segnale forte in questo senso qui, proprio per risollevare anche l'umore delle famiglie, forse andrebbe andrebbe detto, perché poi si rischia che la famiglia viene detto come priorità nelle parole e poi passa in secondo piano nelle scelte pratiche. Da qui vorrei passare un momento... Come concordo su questo rischio e come spero di avere mostrato con questi piccoli esempi, non è solo a parole ma è nei limiti angusti che ho citato. Io faccio fatica con il precedente ministro, con il delega della famiglia a far capire che quegli interventi un attantum bonus non sono una politica strutturale per la famiglia. Grazie.